Musica Ben ritrovati, buongiorno a tutti cari telespettatori, buon inizio settimana, oggi è lunedì 28 agosto, insomma siamo arrivati alla fine di questo mese caldissimo con temperature davvero record siamo arrivati dicevo alla fine di questo mese, siamo però all'inizio di una nuova settimana e lo facciamo con i giornali, la rassegna stampa tutte le mattine alle 7.30 in diretta poi in replica durante la mattinata allora vediamo adesso il calendario di oggi con il santo del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Agostino, Sant'Agostino Vescovo, il sole è sorto alle 6.25, tramonterà alle 19.54 minuti per quanto riguarda il tempo avremo una giornata, qui siamo sulla sito internet di Trebimeteo, inizialmente soleggiato e caldo però poi aumenta l'instabilità qui siamo nel pomeriggio, entrosera nelle marche, vedete questa è la previsione che fa trebimeteo.it per la giornata di oggi questo invece è domani, domani mattina, pomeriggio, vedete sera che migliora. Mentre la protezione civile delle marche queste sono il bollettino, il bollettino è stato stilato in realtà sabato 26 quindi diciamo è un po' datato rispetto a quello che è l'aggiornamento di Trebimeteo comunque la protezione civile delle marche oggi prevede un cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso con aumento della nuosità invece nel pomeriggio, poi precipitazioni che potrebbero arrivare, vedete nella giornata di martedì ma evidentemente il tempo ha anticipato e quindi può darsi che appunto già da questa sera ci saranno brevi rovesci o temporali. Condizioni comunque stabili nei prossimi giorni da mercoledì in poi. Allora la fotografia che c'è stamattina, l'abbiamo già vista ma la ripropone il resto del Carlino a tutta pagina è un cinghiale di 200 kg, è un cinghiale enorme che hanno catturato perché c'è una vera e propria invasione di questi animali migliaia di cinghiali che scorazzano praticamente ovunque, due sono stati investiti nella notte sulla Fogliense poi a Urbino c'è stato un abbattimento record e fa riferimento alla fotografia che andiamo adesso a vedere di questo esemplare superiore appunto di 200 kg e dentro ci sono nell'articolo di oggi, nella pagina di oggi del resto del Carlino tutti i dettagli. Poi però c'è la cronaca, la cronaca in primo piano dove in una spiaggia pesarese una coppia di amici 25 anni, adesso lo vedremo tra un istante, si è appartata e in un momento, insomma, volevano stare un po' da soli in riva al mare, in spiaggia di notte, chi non l'ha fatto, l'avevano fatto tutti, insomma, un po' di intimità alla fine sono arrivati tre balordi, probabilmente tre persone che non passavano lì per caso questi hanno subito una sorta di rapina, questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza si sono messi a correre hanno lanciato sul lettino i loro due cellulari, due cellulari anche di marca, qualche spicciolo, 5 euro per il timore appunto di una aggressione sessuale come quella che è avvenuta a Rimini poi si parla sul resto del Carlino di questa mattina dell'evento, evento canino, il meticcio è più bello in centinaia in piazza per la sfilata dei cani e poi sul San Bartolo una cena per ringraziare chi ha spento l'incendio e il calcio con gli squilli del Fano con il Bassano, il Fano ha vinto 1 a 0 e la Vis contro il San Marino invece che ne ha fatti 5 di gol, 5 a 1, questo è il risultato finale ma andiamo a vedere questa notizia sulla pagina 5 del resto del Carlino alle 4.30, alle 4.30 di ieri mattina, dopo la festa, gli amici volevano stare appunto un po' da soli e così hanno cercato un po' di intimità sui lettini della spiaggia del Sacro Cuore un ragazzo e una ragazza di 25 anni, entrambi di Pesaro, si è ritrovati in un attimo circondata da tre sconosciuti e per paura di essere appunto, di subire una violenza così come è successa a Rimini questi due si sono messi a correre, hanno lanciato due cellulari poi qui nel racconto di Roberto Damiani di questa mattina ci sono tutti i particolari per cui non vi dico altro, leggetevi, acquistate il giornale, leggetevi tutti i particolari insomma alla fine se la sono cavata, hanno perso i due cellulari la polizia, i militari, i carabinieri hanno setacciato la spiaggia anche ieri mattina si sono messe alla ricerca di questi due ma c'era poca roba insomma, per ora non hanno ritrovato nulla poi si parla della celebrazione a Fano della liberazione Fano liberata dal nazifascismo, 73esimo anniversario questa è la fotografia scattata al monumento dei caduti poi sotto invece la cronaca ancora con un tir che si ribalta con auto e moto che sono finiti fuori strada ieri un intervento sulla Flaminia all'altezza di Cagli e un barista che nega il bagno ad un'anziana invalida al 100% insomma è successo una lettera di protesta che è arrivata da parte di Daniela Lazzarini del Pelingo e questo è quello che è successo ad un titolare di un bar ad Acqualagna e mentre sulla pagina 6 del resto del Carlino c'è la rinincita se vogliamo di solito sono gli automobilisti che se la prendono con i ciclisti questa volta sono i ciclisti che se la prendono non con gli automobilisti ma con chi passeggia a piedi sulle piste ciclabili il titolo le ciclabili alle bici non a chi passeggia ci sono proteste per l'uso della pista ciclabile che dalla zona del mare porta a Fosso Signore dalla zona del mare Pesaro e da Pesaro verso Fosso Signore si utilizza certamente si utilizza la pista ciclabile per le passeggiate c'è chi ci fa jogging chi va a correre chi ci porta spasso il cane chi ci va col passeggino e i ciclisti insomma se la prendono un po' e dicono quella è una pista ciclabile dovrebbe essere soltanto utilizzata da chi va sulle due ruote da chi va in bicicletta mentre a destra vedete l'altro titolo una serata per realizzare il sogno di Don Giorgetti il sacerdote pesarese morto qualche settimana fa gli amici musicisti hanno pensato di organizzare un concerto per mercoledì prossimo il 31 di agosto alle ore 21 è una serata organizzata appunto da alcuni musicisti del religioso per raccogliere fondi per costruire e realizzare una casa per l'accoglienza è un po' il sogno che aveva appunto Don Giorgio Giorgetti quello di realizzare a Pesaro questa casa per l'accoglienza è un progetto al quale appunto stava lavorando prima che venisse colpito da un infarto cambiamo il giornale andiamo su un Corriere Adriatico la foto è del boss Bruce Pristing un concerto per il sisma ma può essere nel 2018 allo Sferisterio di Macerata la notizia la dà appunto il giornale Marchigiano un concerto per raccogliere fondi sogno Bruce Pristing indiscrezioni e conferme sull'arrivo del boss mentre la notizia in evidenza nell'edizione pesarese del Corriere Adriatico è sul sindaco di Pesaro Ricci che striglia un po' la prefettura sui migranti rivedere i numeri è la frenata del sindaco c'è una lettera al prefetto che dice in sostanza a Borgo Santa Maria queste cifre le cifre sono da dimezzare perché dice ho scritto al prefetto il numero dei migranti accolti va dimezzato e anche a Pesaro siamo fuori misura la frenata del sindaco Matteo Ricci alla politica dell'accoglienza arriva sabato sera sul palco della festa dell'unità a Pesaro in piazzale Collenuccio rispondendo alle domande sui grandi temi appunto che sono state poste tra l'altro dal giornalista televisivo Paolo Del Debbio mentre qua sopra sotto la testata anzi anche qui un richiamo alle pagine sportive il fanno inizia la grande vince anche la vis Pesaro ma in primo piano sulla cronaca locale la pagina di Fano c'è il palio che si è concluso il palio delle contrade si è concluso ieri la croce vince il palio e sono tre spettacoli in campo e sugli spalti perché sugli spalti c'erano ben 3.000 spettatori che hanno fatto il tifo per le quattro contrade la prova equestre mette in discussione il risultato l'entusiasmo esploso dopo la competizione della FUNE uno spareggio con i rivali dell'assunta che avevano recuperato sono le fotografie vedete del momento di alcuni momenti di questo palio un palio che si rifà ad un fatto storico che vale la pena ricordare quando Pandolfo marciò per un ex voto nel 1399 il 3 ottobre del 1399 andiamo sulla pagina 13 di Fano dove la cronaca invece è per il racconto dei cani che hanno sfilato al Codma di Rosciano di Fano sfilano i cani più grandi e più belli vince un Carlino dalla Spagna la prima edizione della manifestazione del Lenci che appunto si è svolta nella città di Fano 350 concorrenti per 75 razze canine le razze di cani presentate alla prima esposizione nazionale canina a città di Fano che si è svolta sabato e domenica in tutto 350 cani provenienti da diverse parti d'Italia con due presenze anche dalla Francia e appunto dalla Spagna e questo cane è appunto il risultato poi vincitore a Pesaro ancora eventi blindati ma pochi agenti costretti a chiudere gli uffici solo dove alloggia la squadra israeliana otto uomini fissi la denuncia è del sindacato di polizia Silp CGL questi sono giorni caldi per le forze dell'ordine a Pesaro perché c'è la festa del Partito Democratico e sapete che quando si muovono i politici dietro c'è tutta la scorta e poi c'è anche il campionato mondiale di ginnastica e come vedete come dicevamo appunto la squadra israeliana ha otto uomini fissi solo dove alloggia perché comunque lì c'è il massimo dell'attenzione e poi dalla pagina di Urbino sugli edifici agricoli KUT non cede nessun vantaggio per le imprese la Crespini dice ancora all'attacco arrivando anche a tirare in ballo il ruolo di Sgarvi mentre alle poste questa è una notizia di servizio che può essere utile per gli urbinati che ci seguono e che salutiamo sono sempre di più torna all'apertura pomeridiana nell'ufficio di via Bramante questi tre uffici postali fanno questo doppio turno del pesarese urbinato ritorna all'apertura pomeridiana terminato il breve periodo di rimodulazione oraria estiva e poi a Fossombrone invece guardate Fossombrone un po' più o meno come fanno vandali e graffitari alla rocca la segnalazione della consigliere consigliere comunale Cipriani Elisa Cipriani che ha segnalato come le murature interne da poco restaurate tra l'altro sono state imbrattate con delle bombolette spray Valle del Cesano invece voglia di tartufo spazi disponibili esauriti online in soli 14 minuti pensate grande interesse per la fiera di Pergola da parte dei commercianti del Tubero il sindaco Francesco Baldelli dice lavoriamo per creare un programma di assoluta qualità ci sono ancora posti per produttori tipici presenti anche stand di tre nazioni straniere poi sotto la cacciata in trasferta con il gioco storico Senigallia un'esibizione di pallone con il bracciale rimverditi i legami storici con Mondolfo e da Senigallia purtroppo invece aveva una brutta notizia quella di una ragazza di 30 anni Micaela Paglialunga che era a Senigallia ospite di un amico un amico che poi l'ha portata di corsa in ospedale poi però Micaela è morta poco dopo aveva 30 anni non ha più ripreso conoscenza oggi il pubblico ministero decide sull'autopsia tra le ipotesi c'è anche un aneurisma si parlava di alcune cause alcune possibili cause tutto sul giornale di questa mattina in edicola sconvolti i conoscenti della giovane residente a città di Castello la quale la descrivono come dolce e sensibile direi che possiamo fermarci qui con i giornali di questa mattina noi ci rivediamo stasera alle 8 e mezza con occhio ai giornali se invece avete delle segnalazioni da farci il numero lo vedete in sovraimpressione grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti